E' avvilente quello che le altre forze politiche con il rispetto per il presidente naturalmente Mattarella che peraltro io conosco da molto prima che diventasse presidente l'ho sempre rispettato ma è incredibile che le forze politiche dopo aver girovagato per diverse votazioni siano tornate come nel gioco del local punto di partenza dimenticando che la nostra Costituzione avendo previsto i padri costituenti la durata di sette anni del mandato del presidente ha implicitamente non nella lettera ma nello spirito riservato a casi rarissimi la rielezione di un presidente che aggiungo io quando avviene dovrebbe in quel caso avvenire alla prima votazione quasi all'unanimità o all'unanimità per cui credo che è il segnale della incapacità di questi partiti a dare all'Italia un governo e anche una speranza per il futuro